L'Ordine degli Architetti di Agrigento interviene a seguito dell'annuncio della restituzione al culto ai fedeli e dai visitatori della Cattedrale di San Gerlando ad Agrigento il prossimo 22 febbraio. L'architetto Calogero Giglia, delegato al Dipartimento Cultura Architettonica, Beni Culturali ed Ecclesiastici, dichiara i lavori eseguiti di consolidamento hanno garantito la sicurezza interna e sono propedeutici a quelli che dovranno essere effettuati sul fragile pendio il cui progetto è stato appena appaltato. Il presidente dell'Ordine, Alfonso Cimino, aggiunge che in questi mesi l'Ordine degli Architetti è stato sempre al fianco dell'Arcidiocesi di Agrigento anche attraverso la collaborazione su progetti che interessano e stimolano la collettività come il progetto Educa Agrigento, svolto nelle scuole agrigentine. Attraverso Educa Agrigento abbiamo richiesto che la via Duomo sia trasformata in zona traffico limitato, poiché è la strada di accesso alla Cattedrale al pari delle altre strade di accesso alle Cattedrali della maggior parte delle grandi città italiane, consentendo anche l'avvio di uno studio per la realizzazione di parcheggi limitrofi.